ho visto bambini giocare ho fatto foto ho fatto dolci ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare allora tutte queste frasi sono accomunate dal fatto che manca l'articolo manca l'articolo per il plurale perché non si dice ho visto le cose oppure ho visto delle cose ho visto alcune cose che voi umani non potete nemmeno immaginare semplicemente questo articolo zero cioè questa mancanza di articolo significa delle alcune ho visto delle cose che voi umani non potete nemmeno immaginare ho fatto foto significa ho fatto delle foto ho visto bambini giocare significa ho visto dei bambini giocare semplicemente questo quando c'è un sostantivo plurale ma manca l'articolo significa che appunto stiamo parlando dell'articolo partitivo plurale quindi dei bambini ho visto dei bambini ho visto bambini è la stessa cosa con una piccola sfumatura di significato grazie